Pesca sportiva dalla Maria per gli amanti della pesca A Ronco all'Adige potete trovare un grande centro di pesca sportiva con vari laghi suddivisi per tipo di pesce e tecnica di pesca Nei laghi Prendi e Lascia incontrerete carpe, amur, storioni e carpe regina che accontentano tutti, dai bambini agli appassionati di carp fishing e un laghetto dedicato alla pesca spinning del Black Bus Inoltre un lago con trote in inverno e pesce gatti nostrani d'estate per pescatori che desiderano portare a casa il pescato Alla pesca sportiva dalla Maria, bar con piatti freddi, salumi, panini, birra, vini e bibite per passare qualche momento in compagnia e la possibilità di prendere il sole e passare una giornata in mezzo alla natura accanto al proprio compagno appassionato di pesca Se volete organizzare una grigliata con gli amici alla pesca sportiva dalla Maria si può, propone a noleggio un'area barbecue attrezzata con gazebo, panche, tavoli e tutti i servizi Pesca sportiva dalla Maria invia il corso 11 a Ronco all'Adige, anche su Facebook